Potenziare le condizioni di accesso ai servizi educativi per le famiglie nella fascia d'età 0-6 anni. Si intitola C'era una volta il progetto ideato e sviluppato dall'Aberinto Cooperativa Sociale di Pesaro, vincitore di un bando dedicato al contrasto della povertà educativa minorile. Una parziale risposta che va ad integrare un sempre più pressante bisogno di famiglie che restano escluse dagli asili. Un progetto che coinvolge ben 12 ambiti territoriali sociali delle Marche e che è stato presentato oggi nel comune di Pesaro. È un progetto appunto mirato sulla fascia 0-6 anni che quindi coinvolge bambini della prima infanzia ma anche coinvolge le loro famiglie. I servizi che si vanno a creare sul territorio regionale sono sia servizi integrativi di servizi già esistenti come prolungamenti orari di nidi o aumento di posti disponibili presso i nidi delle scuole dell'infanzia, sia attivazione di nuovi servizi, quindi nascita di nuovi nidi, micronido, centro per l'infanzia, attività di supporto alla genitorialità come sportelli di ascolto per le famiglie, come scuole per i genitori e anche un laboratorio outdoor, laboratori musicali, un centro polifunzionale che verrà realizzato nel comune di Monteprandone. Quindi sono veramente tante le iniziative che grazie a questo progetto finanziato dall'impresa sociale con i bambini e ci accompagnerà fino al 2025 per sostenere questa delicata fascia di età. Il problema che viene intercettato dai soggetti promotori e gestori di questo progetto è proprio quello della difficoltà di accesso ai servizi educativi da parte di alcune fasce di famiglie, in particolare quelle con più difficoltà economica e sociale. La Fondazione con i bambini, che è l'ente nazionale che finanzia iniziative di questo tipo, è per il terzo anno premiato questo progetto che come i precedenti, da parte della nostra cooperativa insieme a dei partner di progetto che sono numerosi, soggetti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, vanno a cercare di dare una risposta per quanto parziale a questa problematica. Il progetto è stato vincitore del bando Cominciò da Zero, dell'impresa sociale con i bambini, il bando è uscito nel 2021, il progetto è partito poi nel 2022 e il finanziamento complessivo per tutto il progetto triennale è di circa un milione di euro. C'era una volta un progetto che riguarda 12 ambiti sociali e territoriali di tutta la regione, è estremamente articolato, nel nostro territorio vede il potenziamento degli orardi e le nuvole di cotone, che è un nido di Borgo Santa Maria, è uno spazio aperto per famiglie e bambini, sempre di quella fascia d'età, il sabato, quindi riservato al sabato. Nella città di Pesaro, proprio il 14 ottobre, sabato prossimo, verrà avviato uno spazio gioco presso il nido nuvole di cotone di Borgo Santa Maria, che accoglierà 12 bambini nella fascia da 0-3 anni, bambini che è stata data la priorità ai bambini esclusi dalle graduatorie dei nidi, quindi avranno la disponibilità i sabati mattina di accedere gratuitamente insieme a un adulto accompagnatore, e potranno fare attività laboratoriale insieme alle educatrici che avranno in gestione questo spazio gioco.